Francesco Totti fa gli auguri di compleanno alla figlia Canel, che ha compiuto 11 anni L'ex capitano della Roma non dimentica di condividere sui suoi profili social uno scatto con la bambina in cui le regala un grandissimo bacio 11 anni passano in un momento. Auguri amore mio, scrive lo sportivo 41N.Mamma Ilari Blasi è più riservata Gli auguri di compleanno a Canel via Uem per gli 11 anni glieli fa Francesco Totti. Che come tutti i padri del mondo, ha un debole per la ragazzina, come pure per Isabella, l'altra principessina di casa Con il primogenito Cristian, da uomini, ci si intende per moltissime cose, ma, forse, c'è un po' meno dolcezza, chissà Il compleanno di Canel è una data da celebrare alla grande. Francesco Totti condivide la sua gioia per la ricorrenza con tanti altri fan in rete, fanno lo stesso le zie della piccola, ormai avviata verso la piena preadolescenza Le sorelle di Ilari, Silvia e Melori, si lasciano immortalare con Canel durante la cena di festeggiamento riservata ai grandi, ai parenti più stretti Anche loro due baciano la biondina, che posa davanti a una torta a due piani. Gli 11 anni sono importanti, si cresce e si diventa un po' più donne Gli 11 anni sono importanti, a una torta a due piani, a una torta a due piani, a una torta a due piani, a una torta a due piani